Ciao e bentornato sul mio canale, oggi condivido con voi la realizzazione di questa scrivania. Buona visione! Sono partito a preparare tutti i componenti della struttura per poi portarla a misura definitiva. Grazie a tutti! Per preparare tutti gli ingastri mi sposto da un amico falegname. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Dopo aver levigato tutti i componenti, pratico con l'utilizzo di un pantografo e una fresa a 45 gradi, un leggero smusso. Grazie a tutti! Ingollo tutta la struttura e nel frattempo preparo gli alloggi per i biscotti o lamelli per il ripiano. Dopodiché unirò tutto con colla e viti. Grazie a tutti! 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 Per la finitura della struttura ho passato due mani di impregnante neutro e una di finitura opaca. ora passo a bordare gli sportelli e a installare le cerniere. Grazie a tutti! 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 Se il video ti è piaciuto fammelo sapere lasciando un like e un commento. Se vuoi aiutarmi nella crescita del canale, condividi questo video sui tuoi social e se ancora non l'hai fatto, iscriviti. Ci vediamo sabato con un nuovo video, ciao!